Buongiorno per la categoria Overex46 ci siamo andati all'inedito Paola, lui è Enrico e Carmina. Grazie a tutti. Chiedeva più sincerità in chi leggeva meno un po' Quelle pagine piede di stupore Io guardavo sempre di più la favola che presentava. Ecco voi a pregare pienetà Gente buona a sentire e non sa Mille leggi tra gridi che semmai Ecco voi a svegliare pienetà Signorotti già morti nei guai Con favole nascoste nei bagagliai Grazie a tutti. Penso a quella storia Avvolta nel pericolo Da quel genere di granito E viva la serata di chi leggeva meno un po' Le tante favole colte e dei migliori Io stregato sempre di più la favola mi replicava. Ecco voi a pregare pienetà Gente buona a sentire e non sa Mille leggi tra gridi che semmai Ecco voi a pregare pienetà Signorotti già morti nei guai Con favole nascoste nei bagagliai Ecco voi a pregare pienetà Ecco voi a pregare pienetà Gente buona a sentire e non sa Mille leggi tra gridi che semmai Ecco voi a pregare pienetà Gente buona a sentire e non sa Signorotti già morti nei guai Con favole nascoste nei bagagliai Ecco voi a pregare pienetà